Weiler ragazzi, io sono Calabria e sicuramente il video di questo nuovo video di Fortnite, signori, allora ci siamo, questa è una partita davvero entusiasmante Vi faccio vedere come le persone sono rimaste corrotte dalla visione dello skirmish e quelle partite competitive dei pro player Vi ricordo che siamo in una normal, le mie live si sposteranno su Twitch, avete il link in descrizione, seguitemi anche su Instagram, sempre il link in descrizione, buona visione Oggi uno stream lo fai ranked? No, Gabby Cry, no, 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 Gabby Cry, non lo faccio, ragazzi, le ranked oggi C'è la macchinetta C'è il discount 29, 29, 29 Quindi questo aggiornamento è una merda questo aggiornamento è una merda sto giocando proprio così giusto per giocare ma sto aggiornamento fa schifo raga non ha senso raga è un aggiornamento che non ha senso cioè il gioco devo farm a mezzo cioè io fai tu senza materiali non me ne frega che perdo non farm raga è lentissimo il farming che secondo me perché ho iniziato a giocare le ranche ma si ma non era tanto il fatto delle cosisi ma il fatto che ci sono alcune situazioni raga che per quanto possiate essere forti morite lo stesso perché è il gioco stesso che vi fa morire non so come spiegarvelo ci sono delle situazioni bella Andre ci sono delle situazioni raga che in base potete essere pure Gesù Cristo morite lo stesso ancora questo romano inizio con l'R spedio ma dove Questo lo vedo un po' in sicuro Ma qualcuno mi ha sparato Calai la skin cdcdcb cosa? Ma ci vogliono i 100 euro ci vogliono Già solo una scheda video decente costa 250 euro Un processore decente 250 euro E ve ne siete già andati ai 500 euro Poco tutto che spendete i 50 euro per il case che prendete il più scrauso che c'è Perfetto 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 Guarda build a B Build a B Mezz'ora di building Che succede poi a build Cazzo Mezz'ora di Questo è sprecare materiali Questo è uno spreco di materiali Questo è stato uno spreco di materiali Cioè che senza vera buildare in quel modo Freneticamente Che senza vera buildare in quel modo Freneticamente senza motivo Cioè sai che c'hai pochi materiali Ha sprecato affuso mille di materiali Non posso stare qua a farmare 3000 di materiali No raga io non ci credo Non ci credo Seriamente non ci credo Che ha fatto sto schifo 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 ma dietro davanti mi sta sparando wey wey questo non è redshot questo non è redshot ti doverò solo la testa non è redshot ma coi ma coi ma coi ma coi ma coi ma davvero ma che cazzo stanno giocando questi dai su ma è una normal l'hanno capito che è una normal o non l'hanno capito che è una normal ma donna ma donna mi ma donna ma che stanno giocando ma lo skirmish raga ma seriamente ma non ci muoio pure da sto bab sono indignato sono indignato ma che cazzo è sta cosa ma cos'è sta roba non ci muoio non ci muoio non ci muoio ma non ci muoio non ci muoio non ci muoio ma non ci muoio ma non ci muoio c'è quello si è ammazzato building cose skirmish boh ragazzi due rift 18 jumps 74 cioè sei a meno una normal cacchio Olli